Dopo l'appoggio della deputazione regionale nazionale incontrata sabato mattina a Palazzo Zanca e l'apertura del presidente della regione Sicilia, Nello Musumeci, il sindaco Cateno De Luca è in cassa un altro sì, quello convinto dell'assessore regionale alla sanità, Ruggero Razza, intervenuto questa mattina nell'ambito di una conferenza dei servizi, che ha visti seduti intorno al tavolo il sindaco De Luca e il vice sindaco Mondello, i rappresentanti dell'ASPA e i componenti della commissione regionale sanità, Antonio De Luca e Franco De Domenico, in forza rispettivamente al Movimento 5 Stelle e al Partito Democratico. Un incontro breve ma efficacissimo dove senza tanti giri di parole sono state fissate le linee guida dello screening sanitario che a giorni partirà sulla popolazione messinese che vive all'interno delle baracche, una serie di controlli a tappeto che serviranno ad accertare quali danni ha prodotto nel tempo il vivere a contatto con emergenze sanitarie di vario tipo e con la presenza costante di amianto, specie alla luce del caso di asbestosi venuto alla ribalta della cronaca nelle scorse settimane. Vissata anche la tempistica dello screening che dovrebbe concludersi entro il 31 dicembre, oltre che ovviamente le modalità dei controlli che verranno svolti, sia in ambulatorio che all'interno di un'unità mobile e un camper, per intenderci, messo a disposizione dall'ASP, che andrà direttamente nelle zone baraccate a sottoporre a controllo medico quanti impossibilitati a muoversi.